buon weekend amici e amiche della rubrica scommettiamo che le prendiamo allora intanto abbiamo chiuso settembre in attivo con le nostre giocate sportive e quindi aiutano in previsione delle bollette del nostro amico Draghi che ci vuole tanto bene allora premessa si ritorna dalla pausa nazionale si è staccato la spina non ci sono filotti non si possono fare ragionamenti di un certo tipo quindi vergine pronti e via vediamo un attimino il campionato nazionale e quelli europei allora in Italia abbiamo sabato ragioniamo su sabato Napoli Toro Inter Roma Empoli Milan allora Napoli Torino sembra uno fisso perché chiaramente il divario tra le due squadre è emblematico però proprio per il ragionamento fatto in precedenza mi giocherei qui un gol ovvero entrambe le squadre segnano rischio la giocata cercando alcuna quota un pochino più alta Inter Roma ancora entrambe le squadre segnano mentre Empoli Milan nel caso specifico vado con il due fisso poi mi sposto in serie B le sto guardando insieme a voi le partite allora Bari Brescia Cagliari Venezia Cittadella Ternana Modena Regina Palermo Sud Tirol qui Palermo Sud Tirol mi fermerei subito con l'uno fisso mi prendo mi prendo questo rischio del fattore campo Parma Frosinone Spalgenua e Perugia Pisa allora qui possiamo provare a giocare due doppie ovvero Bari Brescia 1x e Parma Frosinone 1x allora adesso ci spostiamo nei campionati europei ok lavoriamo in Germania in Germania abbiamo una partita dove metterei entrambe le squadre segnano quindi gol entra Francoforte Union Berlino mi giocherei questa questa partita qua così come proverei la stessa giocata con con Wolfsburg Stoccarda eccomi potrei provare qua però qua sono un attimino indeciso quindi la lasciamo la lasciamo un attimo in stand by spostiamoci su un altro campionato europeo vi sto dando delle alternative chiaramente poi se le becchiamo tutte è un filotto che supera sicuramente il migliaio di euro se no vi orientate su quello che ritenete più opportuno in Inghilterra Arsenal Tottenham bellissima bellissima assolutamente entrambe le squadre segnano partita delle 13 e 30 che può decidere subito il tagliando o in bene o in male chiaramente poi abbiamo poi abbiamo un Liverpool Brighton dato a 1 44 e non possiamo non giocarla la quota ci spinge a giocarci l'uno chiaramente anche se il Liverpool non sta andando bene ma proprio per questo poi mi sposto dall'Inghilterra perché le altre partite anche il Chelsea a Crystal con Crystal Palace sì il 2 a 1 80 ma il Crystal non sta andando malissimo ultimamente quindi non non mi vado a fare una giocata azzardata chiudo con la Spagna chiudo con la Spagna dove l'unica che mi sento un attimino di suggerire il Barcellona che vince a Mallorca a fine serata questa si può anche giocare partita delle 21 e 30 che può essere anche una copertura qualora le altre le abbiamo le abbiate già prese quindi per sabato è tutto ci risentiamo poi domani per i pronosticini della domenica e come sempre fino alla fine le prendiamo ciao ragazzi